Si chiama Progetto Urbano Unitario di Porta Leoni ed è uno dei programmi di riqualificazione che la Giunta Cialente aveva inserito nell'ambito del piano di ricostruzione della città tra quelli speciali. 4 milioni di euro stanziati con delibera Cipe nel 2017 con un anticipo di 400 mila euro per la progettazione. Destinati a riqualificare una delle zone più belle dell'Aquila tra la Basilica di San Bernardino, da poco meravigliosamente restaurata, e le Mura Cittadine. Soldi che lo Stato ha concesso all'Aquila per un progetto di cui però si è persa traccia con il passaggio dalla vecchia alla nuova amministrazione. Ma di cosa si tratta? Con 4 milioni di euro l'area urbana del centro storico per anni abbandonata alla deregulation edilizia nell'intenzione progettuale dovrebbe diventare uno dei luoghi più paesaggistici e suggestivi, una chicca architettonica di ampio respiro. A partire dalla sistemazione e dal restauro della zona storica di Porta Leoni, San Bernardino e Santa Maria di Farfa all'interno delle Mura Cittadine, con la creazione di un'area verde di un bel vedere con vista a Gran Sasso, Maiella, Vellino e Sirente. La realizzazione poi, sempre secondo progetto, di un parcheggio sotterraneo, ma anche il recupero delle Mura Cittadine con un camminamento, adesso occultati dalle vecchie palazzine Ater, è un intervento più ampio che permetterebbe di riscoprire il convento di San Domenico, che per tanti anni è stato un distretto militare. Per questo programma urbano, il 9 giugno del 2017 è stata firmata l'intesa tra il Comune dell'Aquila, all'epoca ancora amministrazione eccialente, e l'Ater, l'Agenzia regionale per l'edilizia residenziale, ed è stato architettato in modo che per il Comune non ci siano esborzi in denaro. Infatti prevede la permuta per un valore di oltre 7 milioni di euro, con 60 nuovi alloggi, 40 nel quartiere di Pettino, ricostruiti dopo il sisma e antisismici, e gli altri nel centro storico della città. In pratica, l'equivalente in denaro degli alloggi Ater di Porta Leoni, il Comune lo avrebbe restituito in alloggi, recuperando in questo modo immobili importanti. Un progetto però di cui non si sa più nulla.